Si è parlato della professione dell'architetto e sicuramente tu avrai avuto modo poi di confrontarti con queste tematiche in questi giorni in maniera continua. Io qui partirei con la prima domanda, diciamo la soddisfazione di portare per il secondo anno un evento così importante nel cuore di cui ci interessano di più la potenziale committenza imprenditoriale. Partiamo dagli imprenditori, questa volta ci diciamo e creiamo un appuntamento in cui l'imprenditore che ha una cantina, che la vuole rinnovare, l'imprenditore che ha un albergo lo deve ricostruire, l'imprenditore che ha una fabbrica e vuole costruire una fabbrica in cui si lavora meglio, si sta a da un'acchiazionale. Chiava in attenzione!! Grazie a tutti